music never lies via via andare via andare andare via andare a pierlu allora tra un po partiamo col tour e quindi ne abbiamo già parlato tempo indietro o addietro come si dice no addietro è brutto addietro va bene abbiamo già parlato e nulla andiamo a cuba andiamo a cuba a fare queste grandi serate grazie all'ambasciata italiana grazie alla scuola di musica di cuba ea una serie personaggi che stanno promuovendo queste nostre serate quindi avremo queste belle feste dentro la fortezza spagnola alla malecon che questa grande piazza dove sono vicino le ambasciate americane d'italiana poi c'è questo fac f ac che la fabbrica della musica un posto bellissimo e poi questa sala rosado un posto incredibile con tutte le piante dentro insomma ragazzi poi manderemo aggiornamenti allora mentre parlavo di questo tour mi è venuto in mente mi sono venute in mente anche le girate precedenti no che aveva fatto il canada abbiamo fatto gli stati uniti e il trade union tra queste due cose è un po john lennon per qualche verso perché in canada siamo stati nell'albergo dove john lennon scrisse insieme a yoko ono a io scrisse insieme a yoko ono yoko ono scrissero una serie di canzoni pierlu tra le quali give a peace chance cioè dai una possibilità alla pace sdraiati su questo letto che aveva costruito questo intorno questo studio di registrazione e questa era a montreal poi dopo a new york siamo stati davanti all'albergo dove john lennon fu ucciso purtroppo lì nel parco c'era questo bellissimo mosaico donato dall'italia appunto alla città di new york proprio lì a central park qui siamo dentro lo strawberry fields che è questa parte di palco che è dedicata a john lennon che abitava proprio qui all'angolo e dentro c'è questo mosaico con scritto imagine e riprende perfettamente un mosaico pompeiano che è stato ricostruito a napoli e donato dalla città di napoli a new york proprio per onorare john lennon in occasione del cinquantesimo anniversario di matrimonio tra john lennon e yoko kono viene riproposto the wedding album lato a e lato b insomma due tracce the wedding album va bene allora pierdo nulla ti volevo dire ecco praticamente che ti volevo dire oggi ti volevo dire questo cioè che andando nelle varie tappe abbiamo toccato dei punti dove era stato john lennon e quindi volevo rivivere con te in occasione dell'uscita l'album questo questa serie diciamo di di frames va bene pierdo questa serie di france ok pierdo grazie ciao music never lies